e ciao a tutti i ragazzi e bentornati con questo nuovo video i ragazzi volevo solo ho fatto già la intro e sono tornato non è che faccio però ogni video è solo così per dirvi che sono tornato fare un nuovo video come ora domani live e domani live forse domani live ma parliamo quindi domani live e parliamo e ragazzi questo questo video si tratta di un tutorial quindi questo tutorial si chiama lo chiederò come visto sul titolo tutorial tutorial come tutorial come editare come mettere copertina ai video quindi dovete cercare su play store è gratuito dovete andare su studio eccola qua la prima appigliate la installate poi la fate apri e a questa schermata e vi dice per video facciamo un video come questo e facciamo ragazzi questa la matita modifica miniatura o mentre pubblico il video beh beh mentre questo facciamo la miniatura cerchiamo quelle modifica miniatura poi miniatura posizionalizzata mettete così mettete e per esempio mettete una foto mettete mettete una foto e che poi dovete fare se l'azione salva 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 teggiore le due modifiche e poi il video è il video di questo video come senti in questo video e poi diciamo sul salvateggio le due modifiche e poi ragazzi questo è per farvelo sapere e niente e niente spero che questo vlog avete capito questo tutorial avete capito questo tutorial è di XRevolution per lui e niente bella